Sono in corso indagini da parte della polizia per individuare gli autori della rapina di sabato sera in un'abitazione alla periferia di Battipaglia, in via dei Vivai. Cinque malviventi, che probabilmente erano entrati in casa per rubare, si sono trovati di fronte all'anziano proprietario di casa che stava cenando con i suoi familiari. L'uomo ha cercato di mettere in fuga i malviventi, ma loro hanno reagito colpendolo con alcuni mattoni. Poi sono fuggiti. Il ferito è stato soccorso dai vicini di casa e trasportato in ospedale. Tanta l'amarezza e la rabbia dei residenti per quanto accaduto, che chiedono subito risposte per la sicurezza.